Ciao, mi chiamo Luis, questo sono io. Vi starete chiedendo come io sia arrivato in questo momento della mia vita? Beh, per capirlo dobbiamo fare un passo indietro. Cazzo, ho appena rotto un letto. Oddio, sono una rock star, sì, rompo le camere. Sì, oh, oddio. No, ma dai, non è possibile. No. Ciao, mi trovo negli Stati Uniti d'America e davanti a me ho un enorme burrito di cipotle. Quello che voglio fare oggi è mangiarlo nel minor tempo possibile, spero di riuscirci. No, metto il timer a volo, tanto lo finisco subito questo. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4 L'ho messo 6 minuti. Non è notevole, vero? Bene, ho fatto schifo. Il segreto ho capito che è non masticare mai. Sento di poterlo fare più velocemente. 1, 2, 3, 4 Sono molto fiero di me stesso. Che gioia. Bene. Sì, sì, sì.